Il film si intitola White White Day, è un film islandese, io sono il montatore del film ed è una crime story di ambientazione moderna, una sorta di poliziesco che ha come protagonista un poliziotto che perde sua moglie e un giorno scopre che però questa moglie probabilmente ha avuto una relazione extracuniugale quando era in vita e quindi cerca di vendicarsi con l'amante della sua defunta moglie e in tutto questo processo elabora la perdita della moglie e al tempo stesso lavora per costruire una casa per sua figlia e sua nipote. Naturalmente la persona più adatta per rispondere a questa domanda sarebbe il regista, credo comunque che l'origine di questo film sia una fascinazione per le varie forme d'amore che un essere umano sperimenta nella sua vita, può amare un uomo, può amare una donna, un figlio o un nipote e naturalmente ha a che vedere come noi dimostriamo l'amore nei confronti degli altri, come funziona l'amore, come lo preserviamo e anche come riusciamo a superare la perdita dell'amore magari a causa di un lutto. In realtà quando ci prepariamo a fare un film noi ne vediamo tanti altri però non sarà in grado di identificare un titolo o un autore che sia una precisa fonte di ispirazione. Diciamo che l'ispirazione viene più dalle arti in generale, per cui magari dalla pittura o dalla musica, ma non c'è un autore singolo. mio nome è Giulio, sono l'editor di A White White Day da Leonore Palmasson. Siamo molto felici di essere qui, spero che vi interagirà il film, se lo vedete. Grazie. 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 Grazie.